Accompagnate da un'atmosfera musicale, Entriamo dentro la cattedrale di Barcellona. Stupenda, gigante, come tutte le cattedrali gotiche, ci fa sentire piccole. La sua costruzione risale al 1298, ma venne terminata solo nel XX secolo. È una cattedrale gotica con una cappella romanica e un chiostro. Qui furono battezzati i sei indiani caraibici che Cristoforo Colombo portò con sede alle Americhe nel 1943. Molto bella, molto semplice e molto legata allo spirituale. Quanto è alto. Nel centro di Barcellona andiamo a visitare il più grande edificio di Gaudì, commissionato dall'industriale Eusebi Güell, cioè Palagüell. Non avendo limiti di budget, Gaudì poteva liberamente scegliere materiali di alta qualità. Infatti la pietra lavorata è ricoperta da marmo bianco e all'interno è impiegato legno pregiato. Gaudì disegnò mobili, luci, vetrate e molti altri accessori. Il palazzo fu terminato nel 1889 e fu usato non solo come abitazione lussuosa, ma anche come luogo di incontri politici, concerti da camera e per ospitare personaggi importanti. Visitando la terrazza, caratteristici sono i comignoli. Questo organo venne fatto costruire appositamente per il palau nel 1908 dalla casa Walters a Ludwitzburg in Germania. Dunque si tratta di un organo tedesco. Purtroppo ha sofferto gravi problemi di manutenzione, per cui le canne dell'organo si erano deteriorate e da partire degli anni Ottanta circa si messe completamente di funzionare. Ma il palau decide di organizzare un programma raccolta fondi per fare una ristorazione dell'organo e questo programma si chiamava Adotta una canna dell'organo. e grazie a diversi sponsor si riusce a restaurare questo organo inserendo un computer all'interno. Questo computer attiva le canne e fanno circolare l'aria all'interno, così oggi abbiamo due modi per suonare questo organo. Il modo tradizionale, classico, con la testiera. La testiera adesso è dall'altra parte del palco scenico, ma quando c'è un concerto di organo la mettiamo sul palco. Questo è il modo tradizionale, classico. E il secondo modo è un modo automatizzato. L'effetto tecnico è lo stesso, sempre l'aria circolando all'interno di queste canne. Buon concerto! Buon concerto! Buon concerto! Buon concerto! Buon concerto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.